Siamo riusciti a organizzare questa serata e che per noi è un onore perché siamo riusciti a portare a Fano quello che per noi, ma penso anche per l'opinione pubblica, è il più grande rappresentante al momento della comunità italiana che è appunto Giorgio Montanini. Sarà una serata molto molto divertente ma anche molto stuzzicante perché appunto è un comico abbastanza satirico e pungente, ma noi siamo molto molto contenti di essere riusciti a portarlo. Speriamo che le cose vadano per il meglio ma siamo convinti di sì, quindi ci aspettiamo una grandissima serata da Giorgio. Ce l'aspettiamo anche noi perché come sai benissimo le cose vere si dicono scherzando. Esatto, esatto, le cose vere si dicono scherzando tenendo quel filo di ironia al limite tra lo stuzzichevole e l'offensivo, quindi sì, siamo d'accordo, sarà quel gioco lì. Però dai un consiglio a tutti, tu che sei veramente del settore, di ironia ce n'è tanto bisogno. Sì, soprattutto dopo questo periodo che abbiamo vissuto molto duro per tutti, purtroppo anche drammaticamente duro. Ci vuole tante ironie per ripartire e penso che qualsiasi forma d'arte, la comicità come la musica, come qualsiasi appunto altra forma d'arte, serva appunto per ridare un po' di respiro a tutti quanti e speriamo che sia l'estate della ripartenza per tutti. Grazie. 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 Grazie.